È iniziata la settimana della Villa Mare Film Festival, le prime due giornate, quelle del 24 e del 25 agosto, quindi quella di oggi e di domani, si terranno presso quest'hotel, l'hotel Le Piane, sulla Statale 18 a Villa Mare, dove sono iniziate le proiezioni, proiezioni non stop, di 100 cortometraggi scelti tra i 300 che erano stati i candidati al Villa Mare Film Festival, giunto alla 17esima edizione. E poi sia oggi, 24 che domani, 25 agosto, in serata, sempre presso l'hotel Le Piane, verranno proiettati dei film. Questa sera, 24 agosto, verrà proiettato il film Felicissime Condoglianze, una simpatica commedia che vede tra i suoi protagonisti Sandra Milo, Enzo Salvi e Andrea Runcato. Questa proiezione, quella di stasera, inizierà alle 21.30. Mentre sabato 25 agosto verranno proiettati due film in serata, alle 20 il film Le Grida del Silenzio di Sasha Alessandra Carlesi e a seguire alle 21.30 il film Angeli del Sud di Bruno Colella. Ma sentiamo che cosa raccontano queste due pellicole in proiezione domani sera. Con l'anno stop di proiezioni presso l'hotel Le Piane è iniziata la settimana del Villa Mare Film Festival. Fino al 25 agosto sarà possibile visionare corti internazionali e in serata a lungometraggi. In particolare, sabato sera, nella saletta cinematografica allestita all'interno dell'hotel, si potranno visionare due pellicole, alle 20 Le Grida del Silenzio e alle 21.30 Angeli del Sud di Bruno Colella. Le Grida del Silenzio è l'opera prima della regista e attrice Sasha Alessandra Carlesi. Sette ragazzi che hanno in comune la frequentazione di un centro sportivo decidono di campeggiare insieme nel bel mezzo di un bosco. Desiree e Sophie sono una coppia di gay. La prima, pragmatica e concreta, la seconda, un po' oca e molto fragile. Manuel e Alice sono fidanzati e hanno in comune l'attrazione per tutto ciò che è spirituale. Daniel è un donnaiolo che ha deciso di sedurre una bella sudamericana proprio nel corso di quella gita, incurante del fidanzato geloso e violento di lei. Luca, infine, insegnante di tennis, è un solitario che cerca di lasciarsi alle spalle un cuore spezzato. Tra il bosco le paure dei giovani emergeranno e le maschere sapientemente costruite per affrontare la società che li circonda cadranno. Mentre la storia del film Angeli del Sud parte nella San Vito dei Normani di Epifani, passa per la Napoli segreta di Peppe Barra, quella delle invenzioni di Tony Esposito, della voce bianca di Nicola Vorelli, dei rocchettari degli anni 70 e per le tradizioni del Basso Lazio. E attraverso questa esile trama e l'utilizzo di tre diversi linguaggi, cioè la musica, la fiction e il documentario, che questo film racconta il mondo affascinante che circonda Eugenio Bennato. E questi sono i film che verranno proiettati sabato sera, 25 agosto. Quindi oggi e domani, in questa saletta, nella saletta cinematografica allestita all'interno di questo hotel, l'hotel Le Piane, ci sarà questa proiezione non stop a partire, lo ripeto, dalle 10 del mattino. Verranno proiettati i cortometraggi e in serata i film. Poi il 26 agosto il Villammare Film Festival si sposterà nella piazza di Villammare, nella piazzetta di Villammare, dove sono iniziati anche i lavori per l'allestimento della sala cinematografica, dove fino al 30 agosto si alterneranno cortometraggi, film, quindi lungometraggi e tanti ospiti noti al grande pubblico. C'è una novità tra le tante della 17esima edizione. Quest'anno il Rotary Club Sapri Golfo di Policastro ha deciso di dare il proprio contributo. In che modo? Premiando il cortometraggio che più saprà esprimere i valori che il club cerca di trasmettere. Ma per comprendere meglio, ascoltiamo il presidente del Rotary Club, l'ingegnere Sergio Felicino. Premierete un cortometraggio, quale? Il cortometraggio sarà scelto tra quelli che hanno saputo veicolare maggiormente i valori da noi sostenuti, che sono la solidarietà, la pace tra i popoli, l'attenzione ai beni culturali e all'ambiente. Quindi sono dei valori universali e noi li sosteniamo da sempre. Credete che un cortometraggio possa essere utile per trasmettere anche i valori che voi sostenete? Certamente sì. Nel momento in cui si parla di arte, si parla di un'espressione umana. Noi sosteniamo l'uomo nelle sue svariate articolazioni. Certo, è una cosa. Il Villamare Film Festival da tanti anni cerca di sostenere il nostro territorio, cerca di sostenere l'arte e per noi il territorio e in particolare per me l'arte è importantissima. E prima di restituire la linea al telegiornale voglio anche ricordare che presso il negozio Emozioni a Villamare, sul lungomare di Villamare, trovate le tessere Amici del Festival, le tessere che vi consentiranno di assicurarvi un posto a sedere nella sala cinematografica all'aperto che sarà allestita sul lungomare, che è in corso di allestimento sul lungomare di Villamare per le serate del Festival che inizieranno nella piazzetta il 26 e per poi terminare il 30. Ed è tutto, la linea torna allo studio.